570735 Buon pomeriggio di nuovo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio R diamo subito l'inizio anche a questa seconda parte salutando il sindaco di Monte Lupone, Rolando Pecora vediamo un attimo di potere, è posto, tutto è a posto per poter partire anche con le registrazioni buonasera Pecora, buonasera sindaco a Stedio, buonasera, grazie noi ci teniamo parecchio a questo incontro perché vogliamo presentare agli ascoltatori un caso in cui per noi, diciamo, si seguire, rispettare la par condicio diventa una cosa impossibile perché si vota a Monte Lupone come si vota a Reganati solo che noi a Reganati abbiamo 17 liste, 268 candidati no, 3 sindaci in competizione mentre Monte Lupone ha un solo sindaco che si è presentato che è appunto il sindaco uscente, Rolando Pecora che ha il terzo mandato intanto, dottor Pecora questo sarebbe, qualora venisse eletto, sarebbe il terzo mandato perché sotto i 15 mila abitanti c'è questa possibilità non c'è questo limite dei due mandati così come è stabilito anche di recente ecco, dottor Pecora appunto si è presentato con la sua lista con la sua coalizione è solo che non c'è un concorrente però questo non è che favorisce molto Pecora dice, allora vince, è scontata la sua vittoria no, non è vero, anzi forse è più difficile perché Pecora? Allora, innanzitutto devo condividere la tua perplessità sul fatto di una sola lista perché comunque è un vulnus per l'offerta che i nostri cittadini hanno io penso che il confronto comunque sia è qualcosa che contribuisca a far crescere tutti e quindi la mancanza di un confronto è in qualche maniera un elemento di povertà come giustamente tu dicevi comunque nella nostra condizione questa è la prima volta che a Monterupone c'è un solo candidato c'è una sola lista e comunque questo qui non rappresenta completamente un vantaggio o un qualche cosa di scontato per cui io posso dormire tranquillo confidando nella mia rielezione perché occorrono dei criteri che sono quelli della partecipazione popolare che comunque deve starci una partecipazione di almeno il 40% degli elettori e non basta non basta ammesso che anche questo si raggiunga e io me lo auguro occorre che in seconda battuta ci sia una espressione di preferenze per la mia lista pari ad almeno il 50% dei votanti più uno quindi ci sono dei paletti che necessariamente devono essere rispettati e il non superamento di questi paletti comporta l'affidamento dell'amministrazione comunale quindi di Monterupone a un commissario prefettizio in attesa di nuove elezioni fra un anno o due quando la burocrazia lo consente quindi allora chiariamo il 40% occorre come quorum e questo rientriamo nei quorum dei referendum oppure perché poi senza raggiungimento di col cuore i referendum decadono quindi in questo caso visto che c'è un solo candidato e una sola lista che lo appoggia di tutti gli elettori di Monterupone almeno il 40% deve recarsi alle urne e di questo 40% che occorre 50 più uno esatto solo di quel 40% 50 più uno ho capito comunque scusa 50 più uno di quelli che effettivamente esprimeranno un voto parteciperanno al voto quindi l'importante è superare intanto il quorum del 40% forse è più facile arrivare al 50 più uno di questi elettori ma come si è arrivati a questa situazione dottor Peguro perché è possibile che in un comune come Monterupone non si riesca ad avere due concorrenti cioè un altro candidato che aspira magari a ricoprire la carica di sindaco veramente questo qui è una questione sulla quale ho ragionato e continuo a ragionare anch'io perché te ripeto io la considero un elemento negativo la non partecipazione non positivo né per me né per la cittadinanza però è questo quello che passa il convento per me ripeto è una cosa negativa però è questo possono essere invocati diverse interpretazioni però rischierei rischierei di essere presuntuoso nell'elavorare queste ipotesi quindi preferisco preferisco non farlo mi pongo il problema mi pongo il problema tu prima facendo il riferimento ai numeri 40% degli elettori 50% dei votanti eccetera nello storico a Montelupone ci sono circa 2600 2600 votanti 2600 votanti elettori nelle ultime elezioni io fui eletto sindaco con 1600 preferenze il mio competitor ne acquisì circa te lo dico subito circa 700 preferenze a me il problema si pone per quei 700 che votarono l'altro sindaco che quindi hanno esprimono un desiderio una progettualità una visione del futuro diversa dalla mia e che non avranno una rappresentanza non avranno mi si pone il problema di in qualche maniera intercettare queste persone queste idee questi progetti queste visioni del futuro per poter in qualche maniera essendo solo corrispondere anche ai loro desiderata è un problema in più è un problema in più serio del quale avrei fatto sinceramente a meno perché in questi ultimi cinque anni ho governato con un'opposizione un'opposizione quando voleva poteva manifestare le sue diversità e su queste ci si poteva confrontare certo ecco altro punto interessante quindi allora perché nel caso specifico di quest'anno di queste elezioni amministrative e se appunto tutto va come nel desiderio che possa andare senza ricorrere quindi al commissario prefettizio noi avremo una maggioranza monolitica diciamo così monocolore nel senso del colore del sindaco Rolando Pecora e non avremo nessun consigliere di opposizione a quanti seggi spetterebbe semmai la minoranza Pecora la composizione del nostro consiglio comunale per le dimensioni che stiamo sotto a 5.000 abitanti è strutturata su 12 consiglieri più il sindaco e normalmente storicamente la maggioranza prendeva 8 consiglieri la minoranza 4 più poi c'è il sindaco in questo caso come tu giustamente hai notato qualora qualora l'elezione sia valida venga raggiunto vengono raggiunte tutte le condizioni il consiglio comunale sarà rappresentato dai 12 candidati che io ho nella mia lista cioè tutti e 12 sì quindi chi si candida è sicuro che può essere eletto una maggioranza bulgara una maggioranza bulgara però se questo è quello che è la situazione che si è creata anzi da quando quello che dice appunto dispiace pure che si è arrivati a questa situazione un po' particolare no la cosa ripeto di estremo interesse né si può magari non so sperare che all'interno della maggioranza ci sia il dibattito che mancherà poi con la presenza delle forze di opposizione perché poi magari succede anche questo se si è tutti in famiglia alla fine si finisce per litigare pure detto questo è una battuta ecco vogliamo vedere prima di andare a conclusione cosa diciamo così come si presenta la città di Monte Lupone dopo dieci anni di amministrazione Pequa innanzitutto voi lo sapete perché ha lavorato anche qui all'ospedale di Recanati poi a Civitanova come primario di pediatria Pecora quindi è una persona conosciutissima il mio figlio si è curato da Pecora quando ha avuto bisogno soprattutto per fenomeni di allergia e quindi oltre a essere un professionista conosciuto è ormai un politico che appunto è sul campo da molti anni è difficile governare una città come Monte Lupone una città sotto i 5 mila abitanti ci si conosce tutti forse i problemi sono tanti o pochi per una città piccola oppure sono ancora più difficile governare una città piccola perché magari si ha meno disponibilità di fondi da investire guarda il numero dei problemi è lo stesso di qualunque altra realtà in termini di popolazione è lo stesso e va affrontato con una struttura personale parlo una struttura fatta di tecnici che è sostanzialmente inferiore a quella che può avere un comune come Reganati come Macerata come Civitanova eccetera per cui io direi che la complessità è almeno pari la complessità considera per dire che in questi ultimi cinque anni si è dovuto affrontare il Covid e il Covid è stato un problema per ogni comune considera un altro elemento che rappresenta anche il presupposto per questa mia nuova candidatura noi abbiamo dovuto faticare non poco per confrontarci con l'opportunità che derivavano dall'offerta europea del PNRR era un'occasione da non perdere da non far perdere per nessun sindaco per tutti i sindaci è stata la stessa cosa e quindi abbiamo dovuto faticare molto per trovare degli spiragli che potessero portare opportunità per Monte Lupone con fatica l'abbiamo trovati e con i tempi che la burocrazia impone siamo arrivati nella fase che dobbiamo metterli a terra stiamo mettendoli a terra questo è il motivo fondamentale per cui è giustificata la mia ricandidatura perché se non avrei fatto ci conosciamo ecco tu facevi riferimento alla mia storia ci conosciamo da tanto avrei fatto volentieri a meno di questa nuova nuova candidatura penso di aver dato abbastanza anche alla mia comunità però le opere messe in piedi e in itinere sulle quali abbiamo lavorato con la mia squadra tantissimo ci avrebbe fatto male vederle non poter non realizzate o realizzate diversamente da come ci eravamo prefigurati per questo motivo ci siamo ricandidati ma questo rappresenta però rispondo precisamente alla tua domanda la complessità dell'amministrazione anche in un piccolo comune certo una curiosità perché io ho sempre portato ad esempio Montelupone quando si parla di viabilità qui da noi che abbiamo avuto anche delle abbiamo tuttora delle situazioni un po' paradossali come la gestione dei parcheggi a pagamento affidati ad una ditta che ha realizzato il parcheggio del centro città per 99 anni e quindi una cosa quasi impensabile un secolo di vita in cui il comune non ha diritto di poter diciamo così disporre o comunque organizzare i parcheggi pubblici come crede come desidera Montelupone l'ho visto sempre come un elemento diciamo così di interesse e anche di invidia perché per noi automobilisti trovare un posto libero senza ricorrere al ticket tanto più se non abbiamo la monetina disponibile per inserire nella macchinetta diventa diciamo sì un fastidio Montelupone è vero che non ha parcheggi a pagamento sì questo rientra nell'opinabile c'è chi si comporta in un modo e chi si comporta in un altro noi altri comunque storicamente abbiamo abbiamo optato per per la gratuità per la gratuità dei parcheggi questo ribadito anche recentemente l'abbiamo ribadito anche recentemente anche in considerazione di quel fenomeno che interessa a tutti i centri storici di tutte di tutte le città e paesi che si stanno spopolando spopolando ma soprattutto stanno perdendo tutti quegli elementi di vitalità negozi artigiani che una volta arricchivano e caratterizzavano i nostri centri storici si stanno perdendo un po' là per tutto si stanno perdendo banche si stanno perdendo bar si stanno perdendo esercizi commerciali e di fronte a tutto questo noi possiamo fare ben poco però quel poco che possiamo fare tra quel poco che possiamo fare abbiamo individuato anche la possibilità di far accedere gratuitamente appunto al centro storico quindi è una scelta e capisco che altri possano fare diversamente però noi abbiamo fatto così non fate pagare il ticket per arrivare al centro storico esatto come succede invece agli altri centri prima parcheggi paghi e poi va al centro storico se ti trattieni un pochettino di più ti ritrovi la multa sul parabrezza cioè ecco le solide situazioni però è anche vero che mentre ci sono dei comuni come il nostro che confida molto su quell'incasso di 7-800 mila euro all'anno dovuto alle multe più che parcheggio e pagamento perché l'incasso di parcheggio e pagamento finiscono nelle casse della società che li gestisce no e addirittura quest'anno mi sembra che nel 2023 siano arrivati a raggiungere la cifra di 1 milione e 200 mila euro che sono stati tolti e ho dovuto umilissi buona parte di questi e moltoemente anche dei canatesi come fa Montelupone a non poter confidare su simili incassi e somme da utilizzare non è che morite di fame per questo sono scelte che hanno chiaramente un corrispettivo economico in termini positivi o in termini negativi ti faccio un esempio a stereo io lo faccio perché è una cosa di cui vado fiero e che considero un messaggio positivo per tutti noi abbiamo se si parla di denatalità tutti insomma il problema della denatalità è un problema che aggrava tutta l'Europa l'Italia le Marche in particolare nell'Italia e quindi anche Montelupone io so che il problema della denatalità non può essere risolto da un piccolo comune deve lavorare lo Stato deve lavorare la regione ciò detto noi abbiamo messo ormai da 4-5 anni un bonus bebè che è di rilevanza penso primaria perché diamo ad ogni nuovo nato nella nostra comunità un bonus di 1000 euro che è importantissimo se tu guardi scori un attimo se prendi visione di chi utilizza un'iniziativa analoga se parla di qualche centinaio di euro noi altri piccolo paese diamo ad ogni nuovo nato 1000 euro noi gli facciamo pagare una tantum o una all'anno no una tantum una tantum per quanto riguarda il nuovo nato poi non facciamo pagare l'asilo nido sostanzialmente il 90% del costo degli asili nido lo copriamo lo copriamo noi altri lo copriamo stiamo costruendo alloggi per giovani coppie a basso costo proprio per favorire per favorire l'insegnamento di giovani coppie una serie di misure che hanno un costo sono scelte sono scelte come quella delle sono scelte che si fanno se si lavora sul bilancio e se si privilegia questo piuttosto che altro no ma questo è bello cioè è quello che poi qui a livello locale Luca Marconi porta avanti come attenzione primaria quella rivolta alle famiglie alla famiglia e voi l'avete adottato attraverso questi diciamo così queste decisioni che vengono proprio incontro la famiglia per nonne per dimostrare poche parole che l'istituzione pubblica chi vuole mettere su famiglia magari con più figli non l'abbandona e ci sono mille forme per questo e io lo ritengo una cosa positiva non penso che molti comuni facciano una scelta del genere per quanto riguarda invece so che Montelupone è anche un'area industriale importante tant'è vero che una delle nostre industrie in passato ritenne più economico e vantaggioso insediarsi e costruire lì il proprio capannone perché ci fu un'accelerazione anche dal punto di vista delle pratiche burocratiche che permise alla Teoco allora di poter insediarsi a Montelupone poi le vicende sappiamo tutte ma sono comune a molti settori industriali che non tutti funzionano tutti hanno una vita eterna quindi Montelupone ha a che fare pure con una presenza artigianale e industriale importante questo è di aiuto per una cittadina di meno di 5 mila abitanti comporta questo anche un aiuto in termini occupazionali per voi assolutamente sì su questo mi devo ritenere privilegiato perché a differenza di altre situazioni io qui non ti dico quotidianamente ma settimanalmente ho sollecitazione lo dicevi tu all'inizio ci conosciamo tutti ho sollecitazione da parte di tanti tanti imprenditori locali che cercano cercano mano d'opera che cercano e hanno stanno trovando hanno trovato e stanno trovando a Montelupone condizioni favorevoli in termini di tassazione tassazione comunale di tributi comunali tu hai ricordato la Teuco io ricordo di aver collaborato a stretto contatto con Virgilio Cuzzini che è stato un grandissimo imprenditore che è stato poi abbiamo abbiamo eppure c'è un contatto con Reganati la Eco che adesso è impiantata qui poi tantissime altre industrie metalmeccaniche della plastica la situazione occupazionale è veramente rosea rosea dal punto di vista dell'offerta probabilmente è meno rosea per la domanda cioè di lavoratori ce ne sarebbe bisogno di più beh va bene di solito c'è c'è il problema di come governarli in quanto stanno a casa in attesa di occupazione e tu dici il pecora dice ce ce ne fossero di più di cittadini che possono che cercano lavoro daremo anche loro soddisfazione no? assolutamente sì va bene ti trasferiremo tutti a Monteruboni io no perché ormai sono pensionato però chissà le generazioni più giovani potrebbero anche farci un pensierino allora per concludere veramente Pecora è stato un piacere con quale programma si presenta allora il sindaco Pecora a queste elezioni cioè quali sono le novità cosa promette a questo punto potrei potrei non usare la categoria delle promesse come se fai visto che c'è una lista unica visto che c'ho però il mio programma è quello che un po' ti dicevo prima comportare a compimento bene le opere che da PNRR e sono tante sono importanti abbiamo circa più di 20 milioni di euro da mettere a terra ah buono pensare utilizzarle queste sempre il 2026 esatto esatto con grosse difficoltà perché tra terremoto super bonus eccetera è difficile anche trovare litte per fare cose vabbè quindi portare a termine bene le opere che abbiamo iniziato fare qualche cosa di importante per il nostro centro storico che ha bisogno di parcheggi parcheggi ulteriori parcheggi e poi ci ragioneremo se a pagamento oppure no ma speriamo di mantenere la tradizione della gratuità sosta libera sosta gratuita perché poi la sosta è disciplinata con il scolato certo certo e poi un importante abbiamo in piedi un importante progetto per quanto riguarda la nostra fazione di San Firmano con il discorso turistico della via lauretana della pista del ciclo pelonale eccetera questi sarebbero i tre principali foci su cui indirizzarci bene 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 d'altra parte veramente è vero che è come una nocciolina che tira l'altra con il turismo e San Firmano ho fatto ricordare una cosa Montelupone come molti comuni delle nostre terre sono dei borghi che sono veramente dei gioielli e il centro storico di Montelupone è stato conservato ed è un gioiello ancora oggi si fa fatica a mantenere questo aspetto di vecchio borgo medievale o comunque storico antico oppure ci sono pressioni edilizie o voi mi siete dotati di un piano magari regolatore particolareggiato del centro storico che vi permette di non adempiere cioè di non favorire degli scempi urbanistici diciamo così noi altri esteri 30 anni fa rischiamo la scomparsa del centro storico col problema che abbiamo della frana è vero la famosa questo è stato un dramma ma nello stesso tempo è stato un elemento che ha evitato l'urbanizzazione selvaggia dei centri storici che c'era un po' dappertutto da lì ci siamo dotati di strumenti regolatori che impediscono appunto il degrado e che garantiscono la conservazione per cui chi viene a Montelupone effettivamente a prescindere dal fatto che io ne sono il sindaco trova urbanisticamente un centro medievale un borgo medievale ottimamente conservato da un punto di vista urbanistico che richiede attenzione perché bisogna lavorare su certi tipi di fogne per esempio se la fognatura in un paese come Recanate o in un altro paese costa X a Montelupone costa due volte tanto perché dobbiamo lavorare con il discorso sul problema della frana che è un problema che riguarda il centro storico quindi richiede attenzione richiede impegno però stiamo mantenendo un bellissimo centro storico benissimo sono contento e poi l'ho detto perché so che Montelupone è rimasto un gioiello dottor Pecora io la ringrazio buona campagna elettorale certo la sua campagna elettorale più che convincere di votarla deve convincere l'elettore di andare a votare esatto esatto e quindi non so cosa è più difficile delle due quindi le faccio tanti auguri veramente di cuore grazie a Stena e un saluto agli ascoltatori grazie presto 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 presto